Ma infidarsi dei cinesi davvero, non so dire, che ti accortella nelle spalle, sti cinesi qua, e neanche troppe poche, fa bene al corpo, anche l'anima, ma se va sempre in due? Sì, no, stavolta in uno, ah, stavolta in uno? Sì, no, però va molto bene, non so se il suo posto è ancora più di presente, perché puoi chiaramente andare ovunque. No, ma bellissima, non c'è dove sono andata tutte le persone, wow, mi sembra un'occa lì, poi dopo che puoi capire il video, dovete uscire lì? No, non è che chiede uscire chi? Ma sei nell'armi? Sai la cosa verde? No, no, l'ho capito. No, comunque quello dove puoi vedere dove ci stanno tutti, quello è, diciamo, è su tutte le mappe. Voglia? Voglia? E' ciasso, è ciasso. Sono io, sono io. Eh, eh, sì. Allora, però, vi posso dire che Faber è stato da solo con me, in due missioni. È vero? E non mi ha mai chillato, anche se eravamo da soli, quindi secondo me, parando io, lo voto subito. Ma perché? No, non sono io. Beh, magari ho sbagliato. Sì, è sbagliato, non lo voto adesso. È sbagliato, Fabrizio. Ha messo un sospetto su Papi. Cioè, lui ha detto, Mattia, Mattia sai quanto sei passato, Mattia non ricorda tre. Ma se la verba, Faber, lui mi ha ucciso che potevi uccidermi tipo due volte. Ma io, perché ti ho incrociato, ho detto, dai Cesco, lo lascio come alibi. Sì, infatti, non ti ho chiesto. Ma lo stardo, Faber. Lui mi ha inseguito in tutte le strade. Ah, mi vissi, eh? Sì, mi sento. Questo livello mi ha inseguito per tutte le fitte. Bastardo cinese, ma il piccato in cinese. Mi sveglio che ho fatto tipo una strage. Ha fatto una strage davvero. Sì, ha fatto fare tutti le strade per perdere. Beh... Non! ma perché ci sono sempre sti rumori di tastiera che non capisco mutati gialli mutati cazzo sei zitto va bene bimbi non 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 l'unica persona che mi aveva incontrato era il vero che veniva da sinistra e l'arancione non l'avevo mai incontrato se non sbaglio no l'arancione non l'avevo mai incontrato è uno di volte agli attori si allora lui aspetta nero quando hai incontrato Prando tu? adesso eravamo giù era già lì? no io sono arrivato io li ho incontrati si ok si ed eravate insieme si ecco poi sono andato giù e ho seguito Prando aspetta subito in che senso? che lui era già lì? no Cesco eri tu lì? è un 50 50 50 se Prando non sei tu allora è Cesco appunto Cesco non lo siamo è stato io chiamato e poi c'eravamo il suo aspetta qui è un 50 50 se Cesco siamo fottuti se Cesco siamo fottuti no in realtà possiamo forse vincere te lo sei sesso già non sei lo scopo ma perché? ti voglio bene anch'io ma potreste essere voi due? no è vero potrebbe essere Ciasso che mi ha lasciato in vita Ciasso scusami e non hai chiuso? ci hanno buttato fuori e non hai chiuso che l'hai chiuso? non lo so non poteva non poteva non poteva era ancora in pulldown il cooldown d'action del bottone rosso è di meno della kill esatto avresti dovuto chiamare tipo un'emergenza esatto mi dispiace pronto tu sei stata la vittima a sacrificare però mi dispiace mi dispiace e poi scopriamo non non riuscivo a ucciderti no 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 in realtà potevi nel senso dovevi dividerci a farci prima di tutto dovevi fare una non so a chiamare ossigeno o reattore dovevi dividerci se chiamavere ossigeno vincevi perché noi dovevamo uno doveva salire e l'altro doveva scendere si quindi era persa esatto se chiamavere una costisima emergenza era persa perché non facciamo in tempo per tornare comunque manco per tornare era impossibile perché due persone servivano e poi eravamo esatto servivano due persone quindi di